Il collaboratore di giustizia milionario, sequestrati beni per 4 milioni di euro a Gennaro Pulice, provvedimento della Divia di Catanzaro, è seguito dalla polizia. L'uomo da manovale dell'Andrangheta, esperto della finanza, ha svelato importanti retroscena criminali. Pulice ha finito in manette nell'ambito dell'operazione Andromeda nel maggio del 2015. Vediamo. Il patrimonio milionario del collaboratore di giustizia Gennaro Pulice, i sigilli posti dal servizio operativo della Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Catanzaro alla totalità di quote e l'intero patrimonio aziendale. Cinque società e un'impresa individuale operanti prevalentemente nel settore delle costruzioni. 20 beni immobili, alcuni veicoli, diversi rapporti bancari per un valore di circa 4 milioni di euro. Le attività investigative della direzione distrettuale antimafia coordinate dal procuratore Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri e dal sostituto procuratore Elio Romano. I sequestri effettuati in Calabria, Lombardia, Piemonte e Abruzzo hanno riguardato anche la moglie di Pulice e alcuni imprenditori considerati suoi prestanome. Gennaro Pulice è considerato esponente apicale delle cosche Iannazzo Cannizzaro da Ponte, autore di diversi omicidi, il primo dei quali commessi quando era ancora minorenne. Un collaboratore che ha rivelato retroscena criminali e scalata economica passando da ruoli di mano balanza a posizioni di prestigio criminale dopo il conseguimento di due lauree in giurisprudenza e scienze giuridiche e spregiudicate operazioni finanziarie. Dall'inchiesta è emerso che Pulice è finito in carcere nell'ambito dell'operazione Andromeda nel maggio del 2015, prima del suo arresto, avrebbe posto in essere una serie di interposizioni pittizie con lo scopo di tutelare l'ingente patrimonio oggi sequestrato dalle forze dell'ordine.